Tre mesi. Questo dovrebbe essere il lasso di tempo di accoglimento dei rifiuti aggiuntivi che arrivano dalla capitale rispetto a quelli che già vengono accolti nella nostra regione a partire dal 2014. La tempistica sarà ratificata però al termine della seduta di giunta regionale in programma per domani, anche se il presidente D'Alfonso al microfono di radio in blu questa mattina ha confermato la volontà del governo regionale di aiutare la capitale. La regione Abruzzo infatti ha una capacità di accoglimento superiore rispetto alle sue necessità, stimate in 250.000 tonnellate. Ed inoltre esiste, come detto, già un accordo con la regione Lazio per il trasporto e il trattamento dei rifiuti. Allo stato attuale, ha proseguito D'Alfonso nell'intervista, risulta una richiesta dell'AMA, la municipalizzata romana che si occupa della nettezza urbana, a cui la regione Abruzzo ha risposto chiedendo delucidazioni su quattro punti, quantità tempistica, ritmo dei trasporti quotidiani e spinta alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in riva Altevere. Domande a cui ad oggi non si è avuta risposta, concluso D'Alfonso, che si è comunque detto pronto a dare una mano alla capitale, quale risorsa turistico-culturale dell'Italia. Tre sarebbero le destinazioni individuate per i rifiuti romani, Aielli, Sulmona e Chieti. Proprio il primo cittadino teatino, Umberto Di Primio, in una nota dice di essere pronto a vietare il passaggio dei camion, se non ci sarà chiarezza su impatto ambientale, quantità, tipologia e durata del conferimento dei rifiuti. Se avessi dovuto autorizzare l'arrivo dei rifiuti nella discarica di proprietà del comune di Chieti, precisa il sindaco, avrei già sbarrato l'ingresso della stessa. Critico anche il forum abruzzese dell'acqua, che con Augusto De Santis parla di una scelta quasi obbligata della regione Abruzzo. Il nuovo piano regionale dei rifiuti, prevedendo una impiantistica sovradimensionata di molto, quasi il doppio rispetto al fabbisogno abruzzese, Pregen andrà a consolidare il fatto che l'Abruzzo si candida a ospitare rifiuti da altre regioni. Peraltro c'è un passaggio del piano in cui c'è scritto proprio l'Abruzzo si candida a importare rifiuti. Ora questo aspetto è assolutamente inaccettabile perché ovviamente poi i costi ambientali di questi impianti sovradimensionati ricadono su noi abruzzesi. Per quello noi abbiamo criticato il nuovo piano regionale dei rifiuti perché fino al 2022, appunto, con questo sovradimensionamento impiantistico rischiamo di dover importare, anche perché altrimenti questi impianti o lavorano male perché lavorano sotto capacità, oppure vanno chiusi e quindi vanno contro il piano, oppure c'è la terza opzione che è quella di importare rifiuti.